Il governo prepara il nuovo programma per il 2014, ma voi non avete affatto fiducia che questo porti a qualcosa di utile, così? Noi da mesi diciamo questo, è un governo fallimentare, è un governo che fino ad oggi non ha risposto alle problematiche importanti, soprattutto dal punto di vista economico di questo Paese, è un governo che millanta, che dice di voler fare, ma in realtà combina assai poco, lo continuiamo a dire in aula parlamentare, all'esterno, i cittadini io credo che ormai abbiano capito queste falsità, queste falsità di un governo che è nato con presupposti politici di un certo tipo durante le elezioni, che si trova invece adesso ad affrontare anche una crisi interna dovuto anche da degli elementi esterni come Renzi. Nel governo le tensioni sono crescenti, c'è diffidenza tra Renzi e Letta, Alfano si sente, in un angolo, che lettura date? Ma noi non ne siamo interessati, sono sempre questioni di vecchia politica, di una volontà di poter spartirsi il potere, sedie, poltrone, come il caso di Girolamo, la nostra volontà è quella che ci possa essere una maggiore trasparenza all'interno delle aule parlamentari e questo lo chiediamo in continuazione e in questa volontà chiediamo veramente che ci possa essere fatto qualcosa, qualcosa di buono nei confronti degli italiani, ma che vengano a dirlo in aula, nelle aule parlamentari. Alcuni ministri sono evidentemente un po' logori, un impasto aiuterebbe a migliorare la situazione? A me sembra che l'intero governo è logoro, quindi se vogliamo fare un impasto ci devono essere le elezioni politiche, le nuove elezioni politiche che devono essere fatte nel più breve tempo possibile, perché questo governo della De Girolamo, ma potremmo mettere in causa anche il ministro Lupi o quant'altri, si dimostra per l'appunto fallimentare e appunto come ha detto anche lei giustamente, logono. Parliamo della legge elettorale, anche perché se parliamo di nuove elezioni dopo la sentenza della consulta bisognerà cambiarla. Voi non piace nessuna delle proposte che sono in campo? Ma noi siamo molto coerenti, la nostra volontà fino ad oggi è stata quella di poter tornare il voto, di poter tornare il voto subito. Abbiamo spesso delle forti considerazioni nel confronto del Matarellum, perché è l'ultima legge elettorale fatta da un governo legittimo. È chiaro che la consulta ha dato un esito di un certo tipo, ha messo in campo una possibile legge elettorale che è un proporzionale e possiamo, se noi vogliamo, tornare al voto con quella legge elettorale. Le altre cose che vengono dette da parte di Renzi, con tre proposte, con questa volontà di poter sempre legarsi Berlusconi-Renzi, quindi sempre la vecchia via del PD-PDL, ci trova assolutamente lontani. E poi, cavolo, sono cose dette all'interno di segrete stanze e come sempre i cittadini ne vengono estragnati, ricevono delle notizie solo attraverso televisioni, ma che vengono a spiegarlo nelle aule parlamentari. Voi vi siederete eventualmente ad un tavolo di confronto o no? Ma noi abbiamo detto una cosa molto semplice, torniamo al voto, ridiamo in mano agli italiani la possibilità di poter dare un Parlamento legittimo. Noi continuiamo a dirlo, la consulta giustamente ha legittimato dal punto di vista costituzionale questo Parlamento, ma dal punto di vista etico non lo è. Questo Parlamento ha un premio di maggioranza che ha prodotto una distorsione dal punto di vista parlamentare e ha prodotto, quello che oggi noi vediamo, vi sono dei parlamentari illegittimi e lo ripeto, se non dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista morale e etico. La domanda è se si arriva alla definizione di una proposta, voi vi siederete a un tavolo per confrontarvi con questa proposta? Io le rispondo in maniera molto semplice, noi in questo momento partiamo con delle consultazioni online, con delle consultazioni importanti con cui i cittadini capiranno le varie proposte di legge elettorale e noi insieme ai cittadini potremo costruire insieme una legge elettorale che poi vogliamo inserire in Costituzione e per cui questi sono i nostri passaggi fondamentali, la partecipazione del cittadino alla vita politica. Eppure anche al vostro interno ci sono stati dei dissensi sull'utilizzo del web come forma di democrazia universale, anche perché poi è molta la gente che non va in rete o perché non ne ha l'opportunità o non ne ha la capacità, come risponde? La risposta è molto semplice, è un procedimento innovativo, è la prima volta al mondo che si verifica la possibilità della partecipazione diretta del cittadino alla creazione di una legge elettorale come questa o di altri processi che metteremo in campo. I numeri in questo momento sono numeri importanti ma che andranno a crescere, andranno a crescere ancora in maniera maggiore e noi siamo sicuri di poter far partecipare moltissime persone e io sfido gli altri partiti a fare una cosa simile, a poter far partecipare la loro base elettorale all'interno dei processi legislativi del Parlamento. Ma non si rischia di creare così una casta del web? Perché poi alla fine l'analfabetismo, quello generale in particolare quello di internet è ancora molto diffuso prima che si colmi, è un processo che richiederà anni? Ma io non credo assolutamente, io credo che le persone stanno avanzando in questo processo di democrazia diretta e sempre di più avremo la possibilità di far partecipare persone. Oggi molto spesso le decisioni degli altri partiti, e io voglio ricordare a tutto il Porcellum, le decisioni anche delle liste elettorali veniva decise da 4 o 5 segretari di partito. Noi già adesso nella nostra volontà riusciamo a poter far partecipare al voto online migliaia di persone, è una differenza veramente incredibile e questo è il futuro della partecipazione diretta. E questo sarà il futuro, ma il Presidente parla anche di intere regioni e aree vaste del Paese che non sono nemmeno raggiunte da internet. Sul nostro programma, lei lo sa perfettamente, è un punto fondamentale, è la banda larga. La nostra volontà è di poter portare la possibilità di avere internet veloce in tutte e quante le case e io ricordo sempre a tutti, perché questo non se lo inventa Federico Linchia, ma sono dei dati economici di assoluta importanza. Per ogni Euro investito in rete, sulla rete, su internet, si produce 1,30 Euro, quindi vi è un 30% di aumento di questo Euro iniziale che noi investiamo. È una parte fondamentale, ma l'America stessa ce lo insegna, insomma, quanto è importante poter far sì che vi sia la banda larga e internet veloce in tutte quante le case. I rapporti tra i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle e i vostri leader, in primis Grillo, ma anche Casaleggio, sono sembrati un po' contrastati in questi ultimi tempi. Dopo l'incontro con Casaleggio questa settimana vanno meglio? Non c'è stata nessuna discordanza con Bertone Grillo e Geroberto Casaleggio, anzi abbiamo avuto la possibilità di poter fare un bellissimo incontro con Geroberto Casaleggio, di poter parlare di questi temi, dei temi della democrazia diretta e abbiamo potuto mettere insieme ed affinare questi procedimenti per cui siamo sempre più vicini e mettere più vicini i nostri lavori parlamentari con la possibilità della partecipazione diretta del cittadino.